buonasera a tutti noi abbiamo appena finito di mangiare adesso devo lavare i piatti però non li lavo li metto nella stoviglia e poi devo pulire un po la cucina allora prima di tutto faccio la stoviglia ho ancora i piatti anche da mezzogiorno vedete è mezzo pieno ormai adesso lo riempio come detergente per la stoviglia uso questo qua intanto anche se mi piace un po meno mi piace più thrill è brillantante giustamente uso acido citrico un po 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 che è A presto. 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 A presto.